Bene amici di YouTube bentornati nel nostro canale, oggi siamo con un'altra puntata di Resident Evil 7 Non so quanto possa essere ancora lungo questo gioco perché dalle registrazioni stiamo giocando più di 3 ore e mezza quindi non sappiamo ancora a che punto siamo della storia L'ultima volta però ci siamo imbattuti contro la madre, quella vecchia margaret, quella che lanciava gli insetti schifosi e erano fastidiosissimi Noi eravamo saliti dal buco, sì, e qui ci stanno o le scale di questa casa o quelle scale lì Io direi di andare subito da quelle lì Questa? Sì dai proviamo a vedere, a mal che vada ci dirà che la porta è chiusa e bisogna tornare indietro O mal che vada ce ne torniamo indietro noi È chiusa dall'altro lato, classico, vedi? La strada giusta è quella là Foto tesoro In un cesso Allora sicuramente ci sarà qualcosa in quel gabinetto Ah sì, la cosa che mi sono dimenticato è che quella vecchia lì si è trasformata in una specie di mutante Tipo... Un ragno quasi Sì, il ragno, dobbiamo trovare una lanterna da posizionare sopra una specie di bilancia in modo da bilanciare il peso e aprire una porta Solo che questa lanterna per prenderla bisogna sconfiggere quella vecchia Abbiamo anche trovato un agente separatore che non l'avevamo mai trovato prima In pratica... Sì, ha interrotto la bestia In pratica questo agente separatore e separa la roba è possibile separare proiettili in modo da avere polvere da sparo e di nuovo un fluido chimico per assimilarlo e fare una cura così Beh, non ci resta altro che andare giù Cosa possiamo fare? Entrare nel biuco Dai Sì, vediamo che abbiamo tutto carico Tutto carico, perfetto Scendi Marco, scendi Sigareta la mattina Allora, quella porta non mi sa niente di buono Tutto qui non sa niente di buono Non quella porta lì, Marco Qui tutto Ma sbaglio che non si vede proprio una pigna Sì, mi sembra che sia scuro più dello scorso livello, dell'altra casa Sì, più... Oh no, più cupo Più cupo, esatto Una crepa È passata da lì, sicuro Uh, uh, ho visto un paio di cartucce per fucile Che sono sempre utili e un fluido forte E qui ci mettiamo sempre mezz'ora a uccidere sti ragni del cazzo Avanti indietro, avanti indietro Abbiamo esplorato per bene tutta la stanza Abbiamo preso i proiettili, tutto Sembra non esserci altro E io direi di andare sopra alle scale Salire al piano di sopra Ci sono tanti Vaffanculo Ora puoi stare tranquillo Che cazzo è? Ah, vedi che si è evoluta Partiamo ragazzi Perché ho visto un'area bella aperta Bella... Bella con tante zone per se poter sca... Oh, cazzo Oh, cazzo Prendili il pompone C'è apparsa il dito Oh, che cazzo è? Sparagli Sparagli a quello di te Alla frittola No, sì, sparagli alla frittola Magascia È crepata Sparagli tu, continua a sparagli Questa qua diventa mutaforme Eravamo lì che aprevamo questa cosa qua Ci vediamo questa cosa Scendere dal cielo Io direi di non consumare più di... Oh Toh, salta in aria Cosa succede? Baga l'ha fritto La merda che era lì Corri, corri Io direi di non scendere sotto le... Le quindici proiettili I quindici proiettili del cane mozza Vai, via Oh, cazzo Siamo caduti Dove siamo finiti? Siamo caduti in un buco Non riusciamo a capire dove ci troviamo La vado a riprendere con la brutta troia Ok, siamo al piano di sotto Non mi fai più paura Stronza 15 munizioni per pistola, ragazzi Combustibile Guardiamoci le spalle Dai Sento l'audio Sento l'audio È da queste parti Sì, è da queste parti qua Ah, beh no Ma tu avrai paura sicuro di questo fucile a carne mozza Che non è un fucile a carne mozza Come on È un fucile a pompa però Vabbè Scendi dal cavallo Come on Oddio, è saltata Dove è finita? Sul tetto, sul tetto, sul tetto Ah, eccola lì, eccola lì La vedo La teta nell'ombra Perfetto Quello che ci servivano Delle cartucce per fucile a pompa Dai Sbucca Vieni fuori Eccola, eccola Ma è mezza bugata Vai Marco Lì col fucile a pompa Sei bugata Oh, questa Ma Ma Magaretta qualche problema Perché Si blocca sempre Anche nello scorso episodio Era lì con la lanterna Sei bloccata Mica Però è brutta, ragazzi È brutta, sì Fai il giro Comodamente E dall'altra parte Eh, ma perché mi sa Che se mi sposto Mi segue Ah, vedi C'è sbuggata È qua Vedo le farfalline Abbiamo zero colpi di pistola Ok Eh, non muore Ah, mi sa che è morta Perfetto Via, via, via Che non esplode Faccia qualcosa Cazzo, abbiamo finito i colpi della pistola Sì Te l'ho detto, Marco Dall'azione Dai che magari ci lascia qualcosa Sì Sì La lanterna La lanterna che cerchevamo Perfetto Ora c'è da correre immediatamente a quella bilancia E vedere Cosa c'è dietro quella porta Siamo giunti finalmente Dove c'è la lanterna Da posizionarla Però Ho i miei dubbi Innanzitutto qua Si muove qualcosa nell'ombra Tipo Degli uccelli Vai Marco E poi Ok, perché ho ucciso la madre Ma c'è ancora il figlio Sì, c'è ancora il figlio Erano delle stupide farfalline Piazza la lanterna Andiamo, dai, veloce Perfetto Ok Ah, ok, perfetto Un cocodrillo gigante peluche Qui si parlava del braccio Che c'era un braccio Dobbiamo cercare una sorta di braccio allora Perché è quello da portare a Zoe, giusto? Secondo me questa era la stanza di Uh Di Zoe o di mia Cioè Cos'era? Una specie di palline Pallone? Sì, una palla Che bastardi Allora, innanzitutto qua non c'è niente Sì, sembra proprio essere una stanza per bambini Cioè, un bambino, no? La ragazza quella là Ah, è presente che abbiamo visto con Mia? Quando scappevamo con Mia? Può essere Che era dall'altra parte del muro My family È Ah, è Evelyn Evelyn, ok Abbiamo scoperto il nome di questa ragazzina Interessante Bambolotti schiacciati Dappertutto Cos'è? L'isola delle bambole Sì, non si vede proprio niente Cioè, è proprio buio pesto Qui c'è la melma Secondo me esce Dici che esce uno di quei mostri là Che erano Neri Nell'altra casa E beh Mi aspettavo un jumpscare di bambolotti Cazzo, ne sono scesi tanti di bambolotti Quindi vuol dire che da su c'è qualcosa Finora stiamo andando avanti bene, eh Cioè Abbiamo distrutto il padre, credo Abbiamo distrutto la madre E... Ma ecco perché non mi funziona la torcia Mi stai alla larga Ma che cazzo Ma perché non ti funziona la torcia? Cosa c'era? Perché quando sei vicino e penso alla bambina Inizia a lampeggiare E finché sei proprio davanti Ti si spegne Ah Lì c'è una porta Eh, lì c'è una palla Le porte cigolanti non mi piacciono No, no Le tende No, no Le tende Le tende è la cosa Vedi, vedi Vedi che si va sempre più fievole Sì, sì Le tende è l'unica cosa che ti preoccupa Una casetta di legno Procediamo con la casetta C'è una lettera al suo interno? Cos'è? È una mappa Sì, ma lì c'è una casa La casetta forse indica Lì c'è il letto Qua Indica qualcosa da questa parte Da questa parte della stanza Abbiamo trovato questa specie di botola Grazie a quella Cartina Cos'è? Quella minimappa disegnata da Evelyn Ma sguaglio è una mano Ah, il braccio È il braccio Vai, è quello che ci serve Preparate un jumpscare sicuro perché Braccio serie D Sì, 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 sì È lui, è lui Aspetta, aspetta perché io qui non mi fido di nessuno Prendilo, prendilo, vai È lei, è Evelyn È lei Guarda chi si muove quella troia Ma aspetta, hai visto che c'è 00... Oddio Forse ci siamo 001 Cos'era? Vedi? 002 Mentre la nonna era E001 Te lo ricordi? Sì, 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 sì Me lo ricordo Adesso dobbiamo uscire da qui Quando scommetto che mi giro Si chiuderà la botola Su qui non vedete Dimmi che è Zoe Dimmi che è Zoe quella lì Ha detto stai alla larga Quindi sicuramente ci troveremo qualcuno a romperci le palle nel ritorno C'erano prima queste scritte sui muri? No Non c'erano queste scritte Non c'era niente Oh, mi sta venendo la palle d'occa ragazzi Tu stai tranquillo Marco Andiamo avanti Stiamo tranquilli Che è solo effetti sonori Stronzi Mi sa che sto gioco se lo giochi senza effetti Oh cazzo! È bello che ti dico io di stare tranquillo Però dopo prendo paura io Andiamo avanti con cautela Che come hai detto te Si possono spammare questi mostri Vista la sostanza nera di prima Quindi andiamo con cautela E ne verranno fuori parecchi qua Secondo me qui ne vengono fuori parecchi Anche perché È il loro punto di respawn Esatto Eccolo lì! Non sapevo io che veniva fuori bastardo Ma chissà cosa sono Io devo ancora capirli Ci sono alberi Dai ricarica Oh ma sono più duri Della scorsa volta Sì mi qui per Per ucciderne uno Devo usare 200 proiettili Tanto vale ucciderli con il fucile a pompa Luca Spieghiamo troppo i proiettili Esatto Mi ricordo Che Ha detto Zoe Che quando avevamo il braccio Ci incontravamo Nella Nella roulotte Eh allora bisogna andare Dritti alla roulotte Squilla il telefono Immancabilmente Rispondiamo L'hai trovato? Certo Ecco qua Riusciremo a creare il siero Con queste cose Se la faremo Una volta creato Potremmo andarsene via Insieme Vi accetto alla roulotte Va bene? Va bene Ecco qua L'ho detto fatto Nostra direzione Roulotte Ci siamo ragazzi Stiamo arrivando Alla roulotte È il momento È il nostro momento Di incontrare Zoe Oh no Ancora telefoni Sto telefono Dove diavolo sei eh? Io Niente Ci serve la testa E ce l'hai Questo aiuterà A me e mia Eh amico Pensavo dovessi saperlo Per Zoe è arrivato il momento Di una bella pausa a caffè Lei e mia Sono qui con me E beh Si stanno ottenendo compagnia Diciamo Ora lasciali andare Ok? A che ti servono? Ah 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 Queste sono questioni Di famiglia Ethan E tu non ne fai parte Mio caro Mi so spiegato Terutura di palle Comunque Se ti serve una testa Sentiti pure libero Di venire qui Quando vuoi E io te ne darò una Ma Sotti che prima Dovrai partecipare A un semplicissimo Gioco che ho preparato per te Solo per te Di che gioco parlo? Oh oh So che non stai nella pelle Ma tranquillo Non andrà da nessunissima parte Molto bene Come prima cosa Partner Ti conviene dare un'occhiazza Dentro al figo Che c'è nella roulotte Fanculo crepa Dici Dici della scheda La porta Sì Abbiamo rispettato tutto Tu puoi divertirti anche tu Allora Guarda Dentro Al Frigo Scusa Guardiamo Dentro il frigo Allora Dai Ah Ah Una testa Di chi è? Ah ok Girati Dissezioni Qual è? Abbiamo il corvo Abbiamo il corvo La chiave del corvo Comunque ragazzi Se notate questa testa Ha un bel principio eh Dobbiamo andare alla stanza Delle dissezioni Che è giù Da questo Il piano di sotto Di questo Solo che andando Abbiamo trovato la chiave Una porta E noi abbiamo la chiave Del corvo Quindi vediamo cosa c'è dentro Cos'è? Forse un altro pezzo Dell'inceneritore? Lancia granate Ma che Ma che cazzo è? Un'armeria? Uh Uh L'abbiamo trovata dentro una Questa ce l'ha conservato Serviamo per un'occasione speciale Ci siamo quasi Siamo al piano di sotto Dove eravamo anche nello scorso video Però non era così buio Mamma mia Quanti ce n'erano qua Ti ricordi? Sì Ma quanti proiettili abbiamo Della pistola adesso? 14 14 Oh cazzo Ma quella vecchia lì Compare sempre Ma Com'è fatto Se ci sono le scale A finire qua No no Le caldaie Vuoi vedere che sarà lei Il boss finale di tutto? Mi chiede se lei Ho una bella granata incendiaria Da ficcargli in bocca Sì esatto Ce la terremo apposta per lei Guarda Se c'è lei Se c'è lei Avanti Credo che le munizioni Le granate Servire Oh C'è la noia Cozzo Che roba è È diverso dagli altri Era un essere diverso dagli altri Sto pistola ormai non fa più niente Non fa È vero Non fa più danni questa pistola qua Però ce n'abbiamo una Nella roulotte Che però ci vogliono Nove monete per sbloccarle Sono parecchie Noi avevamo in mente Di usarle Per avere una ricarica Più veloce E questo è il puliziotto Eh ma va Prova ad essere un vero uomo Mi fia la mano In questo collo di magliale No Mi dispiace amico Guarda Cazzo Che voglio Che è La chiave del serpente Finalmente abbiamo anche questa Magnifico Questo regalino Aiuterà te A trovare le due schede Senza quelle Non potrai entrare alla festa Mi dispiace tanto Esatto Vedami guadagnare la pagnotta Ethan E le due schede Sono quelle che andranno infilate Alla porta Siamo uscite dalla porta Ci siamo trovati questi Cioè ti pareva Guarda Non fa più niente La Aspetta Non sprecare colpi Vai Non fa più niente la pistola Cioè tanto vale usare No 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 Non sprecare colpi Usa il coltello piuttosto Tanto non credo che gli manchi tanto E muori Quanto sei duro Qui se non sbaglio Qui se non sbaglio c'è la prima porta Con la figura del serpente Prova vedere Collegava Eccola qua Usiamo subito la chiave Sì almeno Oddio Ma Se no che massa porta del serpente Chi Che massa porta D'abisso Forse questa porta ci condurrà Al piano di sopra E sbuceremo in una delle porte Che non potevamo aprire in precedenza Ah qua Sì Dove avevamo trovato la chiave dello scorpione Un po' di tempo fa Ah per forza Ok Siamo andati al piano di sopra Per aprire queste porte Come non entra in questa serratura Forse Ah hai sbagliato chiave Ok Abbiamo mille chiavi Esatto Abbiamo incontrato una serie di nemici Ma li abbiamo uccisi E ci troviamo La nostra cara vecchia Finché la vecchia non fa niente Sì sì anche tranquilla Regola orologio Ok La stessa ora degli altri orologi Perfetto Ok Andiamo a vedere gli altri orologi Fuori Dalla stanza E potremo risolvere questo indovinello Posizione di pistola Nice Andiamo a esplorare anche un po' in giro Ciao vecchia Vecchia di Obuno Abbiamo già capito cosa serve l'orologio Perché Qui Stavamo cercando Abbiamo visto uno spiraglio Quindi sicuramente Mettendo l'ora esatta degli altri orologi L'orologio farà aprire questa porta Sì esatto Sposterà il letto Presumamente Abbiamo trovato anche Una foto con la Del tesoro E abbiamo trovato degli steroidi Che ci hanno allungato anche la vita E abbiamo trovato anche uno zaino E possiamo contenere oggetti Più oggetti Esatto Manco male Meno male perché Lo spazio è sempre contato Proviamo a regolarlo Ok Ottimo Andiamo di sotto Proprio Sì vai più sotto del sotto Ciao Sicuramente ci saranno dei mostri Che stanza è mai questa L'avvertimento che avevano È l'avvertimento che avevano trovato All'inizio del bosco Prima di entrare nella prima casa Esatto È esattamente questo Munizioni potenziate Cambio munizioni con la G Perfetto Vabbè adesso ci teniamo con le deboli Perfetto La scheda rossa Ok Ci serve solo quella blu Questa è la porta dell'officina Quella che era bloccata Dall'altro lato Esattamente Allora Dobbiamo solo uscire Che non mi ricordo E rifare tutto il giro Andiamo di qua Sì vai dritto Ok Andiamo dritto Facciamo prima Eh vaffanculo Vaffanculo Uso il coltello Merda Ucci la pompa Cazzo Quanti ce ne sono Cioè ci vogliono far consumare Proprio le munizioni Non uso quelle della pistola potenziata No 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 Pintele Pintele E uno E due E usa Uno è andato Via Vai giù E se scappi con questo Esatto Lo lasciamo qui sotto Così Almeno non consumiamo munizioni Però l'unica cosa Che non mi piace È che i mostri Potevano almeno Buttare giù Delle munizioncine Esatto Non c'è neanche il loot Nei mostri Comunque è meglio Risparmiare munizioni E scappare via Perché qua non si sa mai Adesso non ci resta Altro che andare Nell'ultima porta Del serpente Che presumibilmente Troveremo la tessera blu Che ci servirà A passare In quella porta strana Vicino Alla roulotte Oh no Eccola lì la porta Dobbiamo andare Nella stanza dei bambini Qui Proprio così Dai sblocchiamo Anche quest'ultima porta Poi possiamo Buttarla via Anche la chiave Cioè buttarla via La mettiamo Dentro Nella cassa La cosa si fa Interessante Stavamo esplorando Per vedere Cosa c'era in giro Abbiamo schiacciato Un pulsante Dentro una lampada E sono scese Delle scale Io direi Di andare su Sì sì Andiamo su Perché anche Parlavano di Comunque di uno liquido Che collava da qui sopra E hanno modificato Le porte Perché così Zoe La cassetta Non poteva Scappare A aprire la porta Ecco perché Hanno modificato Con queste due Tessere le porte Abbiamo trovato Una cassetta Che Servirà Nella roulotte Per vederla Così useremo Quella per vederla Vediamo se ci dà Qualche informazione Qui c'è La solita composizione Da fare Eccoci qua Perfetto Siamo riusciti Anche ad aprire Questa porta No Mi sbagliavo Questa casetta Ma però Nella casetta C'è una cosa Che mi piace La scheda blu La cosa che resta Da fare Ora è tornare Indietro a quella Porta E inserire Le due Tessere Peccato che Non siamo riusciti A prendere Il fucile Giocattolo E la pistola Giocattolo Perché potevamo Sostituire Il fucile rotto Con il fucile Il fucile giocattolo In modo che Potevamo anche Prendere Il fucile rotto Così con un kit Di riparazione Potevamo avere Ben due Fucili Però vabbè Il telefono Sentiamo Squillare Infatti è così Sentiamo dai Sentiamo Vediamo cosa c'ha Di dire Che puttaniere Sì è lui Fammi parlare Con mia E quella porta là Sì Ti aspettano Tutti quanti Che magari Mi ritrovo Tutti quei bastardi Che ho ucciso E non sono morti Effettivamente Siamo giunti alla roulotte Abbiamo salvato Abbiamo la cassetta Del compleanno Di mia Esatto Abbiamo le due schede Per aprire la porta E partecipare Alla festa Così dicono Però Non lo facciamo In questo episodio Lo faremo nel prossimo Vedremo sia la cassetta E vedremo cosa si nasconde Dietro quella porta Quindi Marco Io direi di concludere Il video qui Non dimenticatevi Di scrivere il canale Di mettere un bel mi piace Di commentare Di condividere il video Qui dai fratelli cuoca È tutto E noi come sempre Ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao